no devo stare attento a tirare perché già mi è venuta una voglia assurda di scagliare il pad però non posso perché l'ho pagato un sacco sto pad e non posso permettermi di romperlo no è affanculo va uca uca si conferma essere comunque il perk più forte del gioco vedi che adesso la barra in basso a destra è diversa rispetto a come era prima non so perché uca 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 su ruote ah il secondo turbo era da prendere lì no anche le mele erano da prendere l'ho attaccato al culo no 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 Grazie a tutti.